Questa notte il personale della Polizia di Stato ha sottoformo a fermo di PG, un cittadino afgano Saeed Khan, nato nel 1993, domiciliato presso una struttura ricettiva del centro. L'uomo ha iniziato del tentato omicidio commesso ieri sera nei confronti di un pakistano, nei pressi del silos di via Flavio Gioia, mediante l'utilizzo di un coltello di un oggetto appuntito atto ad offendere. In Italia, dallo scorso luglio, entrambi hanno richiesto la protezione umanitaria, una discussione per futili motivi vista la diversa appartenenza etnica alla base della discussione, sfociata poi nell'accoltellamento. I dettagli della tempestiva attività dell'indagine svolta dal personale della squadra mobile e della locale Polizia Ferroviaria sono stati illustrati nella tarda mattinata inquestura. L'aggredito, che ha subito un solo ma profondo colpo all'addome, è stato soccorso e trasportato presso l'ospedale di Cattinara e i sanitari non hanno sciolto la prognosi. Dopo le formalità di rito, il Khan è stato accompagnato presso la casa circondariale a disposizione della locale procura della Repubblica.